Adesso tre Io ora li vado a recuperare il fortino Noi abbiamo dovuto usare motoseghe e macete per farci spazio nella vegetazione e scendere da giù Io vado al fortino Poi Poi c'è un'altra Non ci vede mai, non ci vede mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.